allora ho appena finito di montare lo scarico racing da media auto e praticamente ho seguito la linea del catalizzatore infatti le marmitte rispetto ai primi video che ha seguito sono un po più bassi silenziatori però visto che per fortuna adesso sono molto più fuori penso che non do tanto fastidio alla catena né alla gomma sono veramente in linea bene adesso soltanto curioso di vedere come si vedrà con le carene montate questo è l'effetto che fa con le carene montate anche se provvisoria in pratica me l'aspettavo così però forse un po più altina non lo so adesso sono un po curioso di sapere cosa ne pensate io non vorrei modificarla perché così ho la certezza che la gomma non subisce diciamo l'effetto del calore della marmitta in più proteggo tanto bene anche la catena che se mettessi diciamo i silenziatori posizionato un po verso l'alto oppure un po più altini comunque avrei delle difficoltà a proteggere bene sia catena che gomma